Oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato contestato per il progetto del termovalorizzatore per i casi di tumori in aumento in alcuni quartieri vicini alla vecchia discarica. La zona di Malagrotta è compromessa, questo il verdetto dello studio epidemiologico della regione Lazio che ha portato all'apertura di un fascicolo in procura su quattro morti sospette per tumore tra gli abitanti di Malagrotta, Massimina e Ponte Galeria. La discarica già considerata a rischio per la presenza di una raffineria e depositi di carburante sarebbe la causa principale secondo l'ipotesi dei magistrati delle esalazioni tossiche e dei rifiuti stoccati senza regole. Nel registro degli indagati è stato iscritto Francesco Rando, legale rappresentante della Giovi SRL, la società che gestisce la discarica con le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose. Secondo lo studio i residenti dell'area hanno rischio superiore del 3-4% rispetto al resto di Roma di contrarre tumori alla laringe, pancreas e cervello oltre a un aumento di malattie cardiovascolari e respiratorie. Le indagini avviate dopo le denunce dei parenti delle vittime tra il 2008 e il 2010 potrebbero allargarsi ad altri casi segnalati. L'associazione futuro sostenibile che rappresenta le famiglie delle vittime chiede chiarezza su quanto accaduto.